20 giornata del campionato giovanissimi regionali under 15 girone C, quest'oggi si affrontano Gifra Milazzo e Folgore Milazzo, padroni di casa che si schierano con Gitto, Delbello, Foti, Astone, Scolaro, Cavallaro, Presti, Adige, Bisbano, Cannistrà ed Amico. Ospiti che rispondono invece con Trifirò, Mondello, Andaloro, Basile, Iarrera, Battaglia, Currò, Formica, Pulito, Impellizzeri e Fama. Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio del direttore di gara. Primo possesso per la Gifra Milazzo con Cavallaro che batte questa punizione a cercare D'Amico sull'auto di sinistra, D'Amico se la sposta sul destro, calcia, traversa di D'Amico. Canistrà, batte questa calcio di punizione direttamente in porta, alto, l'accompagna con lo sguardo sul fondo Trifirò. Punizione dalla sinistra, interviene qui il portiere Trifirò che guadagna anche punizione. Mette ordine qui Canistrà, ancora il numero 10 per Presti, ancora Canistrà, lo scambio tra i due, vuole andare di nuovo da Presti, Presti ancora con la sinistro il numero 7. Trifirò la fassua, lancio lungo per D'Amico, difende Formica, ancora D'Amico vuole liberare il destro. C'è Adige a fianco a lui, numero 8, se la sposta qui sul destro, ancora Adige punta l'avversario, Adige, Adige carica il destro! E arriva il gol di Adige, traversa e poi Rete dà un bacio alla traversa, il pallone, poi entra dentro, gol del numero 8 che sblocca la partita, 1-0. Adige scappa sull'out Mancino, va in verticale dalle parti di D'Amico, che se la sposta sul destro, D'Amico carica il destro da fuori, pallone che esce sul fondo. Punizione qua dalla destra per la Folgore, esce con i pugni Egitto. Impostazione dal basso qui della Folgore, che però sbaglia, riconquista palla del Bello, del Bello vuole fare tutto da solo, va sul settore di destra, la mette in mezzo per Presti, che se la sposta sul sinistro, calcio in porta! Ed è 2-0, Presti, il numero 7, segna così il gol del raddoppio, se l'è spostata sul piede migliore, poi ha segnato così. Secondo tempo che inizia con la Folgore in attacco, lotta in mezzo al campo, lancio lungo qui per Impellizzeri, che prova a metterla giù. C'è Basile, che chiama palla centralmente, è servito il destro di Basile, sul fondo! Cambia allora per la Gifra Milazzo, entrano Campo, Santoro e Scalzo, escono Canistra, Scolaro e Cavallaro. Prova a ruotare gli uomini in campo, il mister della Gifra Milazzo. Punizione per la Folgore. Destro da fuori, esce nuovamente con i pugni, Gitto. Astone, prova ad andare lungo sul settore di sinistra, dove c'è D'Amico, D'Amico, ancora D'Amico, col destro D'Amico, il tocco sotto! E arriva il Tris, della Gifra Milazzo, con D'Amico, che segna la sua personale doppietta. Bellissimo il gol qui del numero 11, che resiste a un contrasto e poi con il tocco sotto, beffa il portiere. Cambio anche in porta per la Gifra Milazzo. Entra Nastasi ed esce Gitto, autore di una buonissima partita. Dentro, nel finale, anche Campo. Rimessa laterale, battuta qui verso Presti. Il numero 7, ancora Presti. Entra di rigore, calcia! In due tempi, Trifiro. Dentro anche Giunta, fuori Del Bello, ultimo cambio. Arriva a questo punto il triplice fischio e termina così Gifra Milazzo-Folgore. Risultato di 3-0 per i padroni di casa, che vincono agilmente, salendo a 34 punti in campionato. Rimane invece in zona play-out la Folgore-Milazzo a quota 12. Grazie a tutti!